Caglielli, vai. Buongiorno a tutti. In questi giorni nelle nostre città, incontrando la gente e ascoltando la gente, sembra che non ci sia più nessun tipo di speranza. La crisi che c'è in atto porta tanta delusione e rassegnazione. In effetti, basta prendere in considerazione alcune delle situazioni che stanno emergendo. Una cosa che è importante e stanno facendo i nostri amministratori, i nostri governatori, i nostri sindaci, stanno cercando di ridurre gli sprechi, le spese inutili. È qualcosa di importante, ma è assolutamente più importante e vitale comprendere perché bisogna agire contro quello che è la causa principale di tutto quello che non sembra più funzionare. E mi riferisco alla capacità e alla possibilità che le nostre imprese possano generare ricchezza, stare sul mercato e quindi garantire lavoro, o meglio, un lavoro dignitoso. E invece cosa fa il VTO in questi giorni con l'accordo sul commercio mondiale fatto il 7 dicembre 2013 a Bali, amplia in misura notevole la libera circolazione delle merci e da un colpo durissimo nella direzione opposta a quella della tutela del lavoro manifatturiero delle nostre terre. Questo atto completa il processo di globalizzazione che è avvenuto in maniera troppo rapida e ha decimato il tessuto produttivo. Le aziende che potevano se ne sono già andate via, quelle che restano cercano di resistere, ma in un contesto difficilissimo. C'è solo un'unica possibilità, occorre un sano protezionismo che non è solo dazi e quote, ma anche. Ma è così orrendo chiedere che le merci che vengono importate non siano realizzate da bambini o da schiavi. È così strano chiedere che i giocattoli che arrivano dall'estero non contengano sostanze tossiche. I controlli, quelli veri, sarebbero già una forma di sano protezionismo. E il VTO dovrebbe farsi garante delle condizioni minime di lavoro e noi dovremmo vietare le importazioni da coloro che non le rispettano. Se no, altro che concorrenza, concorrenza sleare, ma veramente sleare. L'antipolitica di questi giorni, che emerge da quello che succede nelle piazze, nelle strade, servirà solo a depotenziare l'azione dell'opposizione e a portare le persone verso l'astensionismo. Noi dobbiamo farcene carico, dobbiamo recuperare quella fetta di voto. Il fatto di portarli verso l'astensionismo è un grande regalo a chi vuole questa Europa sempre più burocratica e azzerata nella sua capacità produttiva. Sono molto bravi a dividere e intanto il lavoro viene distrutto. Occorre mettere insieme idee e persone. Ci sono molti movimenti indipendentisti a cui rivolgersi. Ciascuno ha la propria storia, le proprie rivendicazioni, le proprie peculiarità, ma non credo certo che vogliano diventare il trentesimo o il quarantesimo Stato di questa Europa. Su queste versioni importanti, e cioè un nuovo modello di Europa federale, si possono trovare delle convergenze. È indispensabile fare insieme queste battaglie. Una parola poi anche per i nostri anziani, che dopo una vita di sacrifici meritano di poterviare in modo dignitoso, anche se questa crisi ci sta portando via tutti i soldi possibili per poterglielo garantire. Una dignità che impedisce loro di avere ciò che gli spetta, perché non sono abituati a chiedere o meglio a pretendere. Ma chi sono quelli che pretendono oggi? Sono quelli che ci impediscono di fare il presepe a scuola, sono quelli che pretendono le moschee nelle nostre città, quelli che sfruttano il buonismo inutile di talune forze politiche e ci porteranno la sciaria. È in atto da parte di questa Europa un processo di normalizzazione e assimilazione al pensiero unico. È ora di dire basta! I nostri principi, i nostri valori non sono negoziabili. Grazie, Giorgio. Dopo questa analisi sembrerebbe che non ci sia più nulla da fare, invece no. Bene fa la Lega Nord a mettere in discussione questa Europa. Bene fa Matteo Salvini a impegnarci tutti in questa battaglia, in questo modello di Europa. La crisi economica ha risvegliato molte coscienze e c'è ancora una speranza che si chiama Lega Nord. Grazie. Grazie. La parola a Costanzo Franco Rubini.